ciao ragazzi benvenuti qui dal vostro diabotech dal mio amico alessandro che voi conoscete un fornitore particolare no particolare nel senso di videogiochi prima del the one ecco cioè allora oggi parliamo questa è un'altra puntata del io ce l'ho oggi e tu ce l'avrai domani cioè si chiama così la puntata ragazzi io ce l'avrò oggi bimbo minchia ce l'avrà domani c'è questa la verità ragazzi deus ex eccolo qui youtube gioco di un gioco ha preso 9 tutti noi tutti no ma poi ho visto che c'ha due trofei da sbloccare tutti e due trofei gli unici due trofei oro che si ritrova questo gioco finisce il gioco senza ammazzare nessuno è tosto e finisce e finisce il gioco senza far scattare un allarme ancora più difficile cioè ragazzi devo farlo devo farlo sotto effetto di alcol non c'è altro non c'è altro soluzione vai passiamo subito l'unboxing della day one edition che per la gente che conta e oggi per i comuni mortali e domani è la verità è questa vai andiamo giusto alessandro quindi ragazzi purtroppo va bene mi sono ragazzi con la pazienza non è che c'è l'ottanta vedete quindi tac e non va la linguetta ogni tanto la linguetta purtroppo ragazzi non la tira fuori la linguetta perché proprio il bimbo minchia tina fuori la linguetta per sparare le cazzate cioè quindi ecco qua ragazzi vedete lo faccio vedere mette a fuoco bene questa webcam perché in confronto a quella che avevo prima è veramente come sempre il classico disco fuori ass attrezzato quindi perché sempre ormai di moda il disco fuori asse va bene ho fatto il contrario allora dentro cosa troviamo ragazzi cosa troviamo dentro troviamo la pubblicità di tomb raider quello che molti credevano che sarebbe stato esclusiva xbox one invece la sony quasi un anno dopo propone tomb raider con la celebrazione dei vent'anni quindi ci sarà sicuramente qualcosa in più vedete ragazzi le cose dove si aspettano i ciambelli escono meglio col buco mentre quelli che dicono abbiamo l'esclusiva poi si ritrovano questo giustamente ragazzi quindi possiamo tranquillamente andare avanti poi troviamo è cosa c'è qui vediamo un po contenuti digitali aggiuntivi uhlala questo qui però non è del playstation store ma del sito della square enix perché playstation store sarebbero 12 cifre e quindi sono di più quindi bisogna registrarsi altrimenti per scaricare sempre nel gioco quindi ragazzi come vedete questo ma il codice col cazzo che ve lo faccio vedere perché sono altrimenti posso scaricare voi quindi non ci pensate che vi regalo il codice perché non se ne parla proprio ok quindi c'è anche il codice qui da riscattare vedete le immagini mi piace ma non ve lo do ok detto questo passiamo a far vedere la cover di gioco veramente facciamo vedere un po da vicino ecco qua guarda come mette a fuoco bene questa webcam ben dettagliato ci vedi anche in movimento così non perde di insomma ragazzi vedete non facciamo gesti di un certo calibro questa è la cover insomma e no perché sembra che sembra che comunque tira vento e quindi poi vola lì la cover ecco vola qui insomma e poi passiamo qui al al blu ray di gioco perché ragazzi sono console che vanno a blu ray e ci sono console che dovranno uscire di andranno a cartucce si vocifera quindi non si non si capisce dove cazzo andremo a finire qui vedete allora ragazzi piccola attenzione il gioco è vietato ai minori 18 anni non è un porno è un gioco però comunque vietato ai minori 18 anni quindi qui brado fa un appello bimbo minchia giocate compratevi lo vetto kinder compratevi ciuccetti compratevi plasmon ma certi giochi non li comprate non li giocare perché già vivete in un mondo tutto vostro quindi poi non si andrebbe con questo veramente per chiedere la violenza e sì perché credo che dieu sexy sia veramente molto poi sono curioso io questa notte credo che farò le 5 di mattina giocare perché sono curioso sul fattore io non seguo male le recensioni tu lo sai quindi perché per me quello che dicono i recensori può essere sempre un po diciamo forviante sì non ho mai ascoltato i recensori per il semplice motivo perché tanto certi purtroppo si sa quando c'è pubblicità di mezzo questo qui dieu sexy non è che ho visto grandi pubblicità in televisione forse proprio non l'ho vista di pubblicità e quindi io sono curioso ragazzi di giocarlo questa notte ricordo sempre bimbo minchia che vedete noi 18 anni 18 anni sia realmente di età che anche di cervello perché poi magari c'è chi ha 26 27 anni di testa ne ha 12 quindi comunque non puoi giocarci a certi giochi ok detto questo ragazzi possiamo rimetter tutto dentro sempre con l'effetto cover non pensate a male questo per far vedere che la webcam regge il framerate e mette a fuoco come cazzo si deve istantaneamente giustamente voi ragazzi lui parla in modo un po più garbato io sono la parte brada del canale quindi io sono la parte free diciamo sono la parte free perché vado veramente vado libero come come si deve insomma ma lui è un mio grande amico cioè ci conosciamo che aveva 15 anni adesso ne ha 28 quindi a 20 vabbè un fatto più giovane tieni tirando in meno cioè non è che non andare a precisare tanto comunque si vede che hai l'età per giocare a deus ex non è che devi stare cioè è no perché comunque c'è c'è non è quello il problema quindi ragazzi un saluto dal vostro diabo dex brado chiamatemi come volete vi metto a fuoco anche il tutto qui tanto mette a fuoco cioè rimango veramente scuro stupito da questa webcam perché vedi avvicino anche e mette a fuoco la paura proprio ne è valsa la pena un saluto dal vostro diabo dex e dal alessandro la parte brada la parte calma del canale bimbo minchia giocate a mio mini pony e lasciate perdere deus ex perché non è per voi ciao a tutti appuntamento con i prossimi unboxing ciao